generazioni di felicità e questo è il tema che è stato scelto per la route nazionale dei capi che si terrà a verona dal 22 al 25 di agosto generazioni a un duplice significato generazioni perché siamo tante generazioni dei capi ci sono capi molto giovani come ci sono capi ormai ultra sessantenni e generazioni perché generiamo felicità cioè siamo portatori di felicità generazioni perché sono tante le generazioni all'interno dello scoutismo dai lupetti agli esploratori ai rover alle scolte e ai capi tutti con un'unica finalità quello di rendere e lasciare il posto migliore di come l'abbiamo trovato